4 e 30 del mattino via della ceramica a Bassano. A quell'ora le strade sono deserte, l'unico a passare un mezzo per la raccolta dei rifiuti. L'operatore ecologico nota qualcosa di strano, una donna accovacciata a bordo strada. Si ferma, l'essa è vicina, le chiede se ha bisogno di aiuto. La giovane non parla ma sono le sue condizioni a parlare per lei. Addosso solo gli slip e si nasconde sotto una coperta leggera. L'uomo nota anche del sangue forse provenire dalla gambe della ragazza. Inevitabile la chiamata ai carabinieri che inviano anche i sanitari del pronto soccorso in via della ceramica. Condotta al San Bassano la ragazza viene medicata e le sue condizioni fortunatamente non sembrano essere preoccupanti. Da quanto è emerso nelle indagini dei carabinieri la donna, una 31enne bassanese, avrebbe litigato con il compagno, un 47enne residente sempre in città. Una lite violenta durante la quale sarebbero volati degli oggetti contundenti che avrebbero ferito la 31enne. Da qui la decisione di fuggire dalla casa dell'uomo e rifugiarsi in strada. Da quanto è emerso finora però nessuna denuncia sarebbe stata ancora presentata alle forze dell'ordine.